In questo momento stiamo entrando sugli impianti del lago di Varano dove vi faremo vedere il metodo di lavorazione della San Michele che è un metodo innovativo, metodo di allevamento su corda. Le ostriche vengono incollate sulle corde a una a una per riprodurre in maniera meccanica la bassa marea. Quindi noi tiriamo fuori in maniera diciamo sistematica un paio di volte a settimana le corde dall'acqua in modo da ricreare la bassa marea. Questo serve all'ostrica per rafforzare il muscolo adduttore e per avere i benefici del sole che asciugando le ostriche fa una specie di sterilizzazione di tutto quello che sono i parassiti quello che c'è attorno che può dar fastidio all'ostrica. Mentre l'ostrica si adatta chiudendosi e trattenendo le acque in modo da imparare proprio a tenere serrata la serrata in modo che sulle nostre tavole la shelf life si allunghi e arrivi addirittura anche a 20 giorni.